Ola ola ola, ciao a tutti i bimbolix, allora adesso oggi finiremo di parlare dei tetracordi, quindi questo è il terzo video sui tetracordi e alla fine per parlare solo di un tetracordo, ma che c'era sfuggito diciamo ancora all'analisi che abbiamo fatto fino adesso adesso diciamo abbiamo parlato di ben 4 tetracordi, tutti e 4 hanno l'estensione di 2 toni e mezzo sono 2 maggiori e 2 minori, quindi andatevi a guardare gli altri video se ancora non avete trattenuto questa informazione quindi adesso invece il tetracordo di cui parliamo oggi è il cosiddetto tetracordo lidio che ha anche lui la caratteristica di essere maggiore ma ha un'estensione completamente diversa ha un'estensione di 3 toni, quindi rispetto a tutti gli altri 4 tetracordi, 2 maggiori e 2 minori che avevano proporzioni all'interno diverse, però avevano diciamo un elemento accumulante che era l'estensione di 2 toni e mezzo, scusate mi sono impappinato questo invece tetracordo lidio maggiore ha l'estensione di 3 toni ed è per questo che io ne sto parlando a parte il tetracordo lidio è fatto, è così fatto, ha un tono tra il primo e il secondo grado diciamo dell'ipotetica scala, un altro tono tra il secondo e il terzo grado e un altro tono ancora tra il terzo e il quarto grado il tetracordo lidio è quello che possiamo anche trovare a partire dal quarto grado della scala maggiore quindi ultimo tetracordo, tetracordo lidio, tetracordo maggiore, tono, 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 estensione, quindi 3 toni ciao a tutti i bimbolix